Lavorare di notte ti insegna l'importanza dei tuoi spazi. Ti insegna che deve esserci un posto dove puoi nasconderti e riposare, ritrovare te stessa. Ecco, lontano, pace e silenzio. Era questa la mia idea di casa. In Corsicato hanno preso questa mia idea e l'hanno trasformata in realtà. Vorrei, 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 dicevo. Loro prendevano appunti e poi la magia. Qualche mese, non un giorno in più del previsto, ed era pronta. Proprio come lo immaginavo, un posto da riempire di me stessa. Io credo che casa sia quel posto dove non devi mai sentirti a disagio. Ed io, quando sono qui, devo potermi esprimere. Devo poter ascoltare la roba assurda che mi mandano gli amici da Berlino senza lo stress della vicina che ti chiede di abbassare il volume. Attaccare l'impianto, perdermi nei riflessi del lago e provare la serata che ho in mente per ore. Non si tratta solamente di mettere a tempo. La gente nei club balla se percepisce una connessione con ciò che gli proponi. Con te. Insomma, il mio lavoro è pura empatia. Il DJ in quelle ore diventa il tuo punto di riferimento e le sue playlist sono più che una musica in sequenza. L'aveste visto quando ero ancora un cantiere. Corsicato ha trasformato questo nel posto in cui non devo mai sentirmi a disagio. E dove nascono le mie idee. Corsicato ha trasformato questo